Ho deciso di comportarmi per le prossime 24 ore come se fossi un vero atleta olimpico. Per poterlo fare ho trovato una lista di 10 buone abitudini che hanno alcuni atleti olimpici e quindi ho deciso di copiarne qualcuna. Per colazione ho preso spunto da Novak Djokovic. Infatti lui beve un bel bicchiere d'acqua con due cucchiai di miele. E quello che vi posso dire è che... Ammazza se fa schifo. Successivamente altri atleti consigliano di mettersi davanti allo specchio e di parlare a se stessi dicendo le cose che vorremmo ci accadano durante la giornata. Quindi l'ho fatto e... Oggi vorrei trovare almeno 1000 euro per terra e vorrei anche che tutte le persone che stanno guardando questo video premano il tasto segui. Poi, ovviamente, mi sono allenato per tutto il giorno. Ed infine ho seguito il consiglio di Usain Bolt. Dormire un buon numero di ore è importantissimo. Quindi mi sono messo a dormire. Ora dimmi, cosa potrei fare per le prossime 24 ore?